Edoardo, vuoi accogliere Samantha come tua sposa nel Signore e di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Sì. Samantha, vuoi accogliere Vardo come tuo sposo nel Signore e di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Sì. Il Signore, Onipotente e Misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolvi della sua benedizione. L'uomo non si separa da ciò che Dio gli scende. Amo. Il Signore, Onipotente e Misericordioso, confermi il consenso che di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Il Signore, Onipotente e Misericordioso, confermi il consenso che di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Il Signore, Onipotente e Misericordioso, confermi il consenso che di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Il Signore, Onipotente e Misericordioso, confermi il consenso che di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Il Signore, Onipotente e Misericordioso, confermi il consenso che di amare e adorare tutti i giorni della tua vita? Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione